Sul tema, però, siccome io ho tanti amici omosessuali, persone disgustose, però non dal punto di vista omosessuale, dal punto di vista umano, però quell'altra, omosessualmente sono bravisti. Volevo fare una cosa in loro favore per giustificare, insomma, far conoscere i loro usi e i costumi alla gente, insomma, che li odia, far capire, insomma, quali sono le usanze di questo meraviglioso popolo, no? Gli omosessuali, no, che... Questo popolo che tanta paura fa a noi bianchi, diciamo, e quindi ho scritto questa lista, che è una lista, diciamo, delle cose che fanno gli omosessuali nella vita di tutti i giorni, senza stereotipi, senza niente, che sono, appunto, nell'ordine. Poi Gattano mi confermerà questa cosa. Inserirsi il pene nell'ano, fare l'amore tra maschi, inserirsi il pene eretto nell'ano, schiorassi tanto in tanto la mano in maniera impercettibile mentre fanno sesso anale, fare quel gioco della barzelletta, quello in cui si fa spadate col pene e si fa zà, 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 perché uno dei due perde, si volta e fa uccidimi. E adesso passiamo alle cose negative che fanno gli omosessuali. Non inserirsi il pene nell'ano, non adottare figli, quindi vivere la giornata, la vita di coppia, rapinare, uccidere, molestare verbalmente i colleghi dal vestiare meno alla moda, fare affari con la camorra a fini estorsivi. E questo era quello che volevo dire sugli omosessuali.